ciao buongiorno a tutti buon martedì spero che sia iniziata bene la mattina e oggi siamo qui in diretta per parlarvi di un attrezzo che vedete qui non è chiaramente punch needle ma è un altro un'altra espressione della creatività che funziona che si può realizzare con questo attrezzo sono abbastanza sicura anzi certa che molte di voi già lo conoscano perché è un attrezzo che si trova facilmente di facilissima reperibilità soprattutto nei negozi cinesi ma molto spesso se lo comprate appunto in questi negozi non bisogna stare attenti perché ci sono delle partite di questo prodotto che a volte funzionano male soprattutto questa parte qui con il gancetto che invece è fondamentale per poter lavorare con questo attrezzo funziona male quindi il mio consiglio è quello di acquistarlo e poi naturalmente di provarlo oppure di acquistarlo di qualità leggermente superiore tra l'altro questo tipo di attrezzo viene anche utilizzato non solo per quello che vi faccio vedere appunto adesso ma anche per un certo tipo di ricamo in quel caso lì la parte diciamo così metallica questa parte metallica è estremamente più sottile perché deve essere utilizzata per andare appunto a bucare la stoffa molto sottile come ad esempio la seta ma ne parleremo di questa tecnica di ricamo adesso volevo mostrarvi questo kit che è costituito appunto dall'attrezzo che però ripeto trovate anche indipendentemente appunto dal dal kit lo trovate appunto di semplice reperibilità come potete vedere è costituito da una parte in plastica e da una parte appunto uncinata e poi c'è questa levetta che va su e giù deve salire e scendere ed è fondamentale per fare quello che appunto vi mostro adesso quindi verificate per chi si collega adesso quando acquistate questo attrezzo che questa parte metallica vada su e giù che non rimanga diciamo incastrata questo tipo di ganci li trovate anche sicuramente qualcuno di voi che mi sta seguendo sa di cosa parlo nei tricottini a manovella perché il tricottino a manovella della prim che vi mostrerò in un'altra delle nostre dirette è fatto proprio in questo modo cioè ha questa parte appunto metallica metallica chiaramente lì parliamo di un oggetto più sottile e questi ganci vanno su e giù e acchiappano appunto il filo nel tricottino della prim la tecnica diciamo la la struttura è la stessa e così così come per il tricottino bisogna verificare che questi di questa parte appunto metallica salga e scenda perché questa appunto che va a acchiappare il filo e a tirarlo appunto giù questo tipo di attrezzo però si utilizza appunto per questo tipo di lavori allora quello che vi presento io dicevo è un kit che noi abbiamo trovato noi di bricomaghi ma non so se c'è ancora di se lo trovate ancora perché non l'abbiamo acquistato recentemente nei negozi della catena tiger ma non è assolutamente necessario avere questo tipo di kit perché la tela che vedete qui che è una tela appunto in questo caso non plasticata ma potete usare tranquillamente anche quelle tele da giardino che trovate in con trama più o meno fitta e nei negozi di giardinaggio quindi di facilissima reperibilità naturalmente valutate lo spessore appunto di questi di queste tele e soprattutto di quelle appunto plasticate soprattutto che non siano estremamente dure quindi valutate un prodotto diciamo al tatto di media durezza comunque ripeto le trovate tranquillamente nei negozi di bricolà di giardinaggio questo tipo di tele rigide e quadrettate e costano veramente pochissimo quindi di facile e anche di semplice reperibilità ciao veronica stavo facendo vedere questo attrezzo che serve appunto per queste realizzazioni a tappeto e per realizzare appunto dei veri e propri tappeti perché questo alla fine sono con questo tipo di tele appunto rigide e questo attrezzo naturalmente andiamo ad utilizzare anche la lana nel caso del mio kit perché io ho appunto questo kit a disposizione la lana si presenta in questo modo cioè già tutta tagliata in questa misura parliamo circa un po' di centimetri appunto ma ripeto è un tipo di diciamo di di progettualità di attività e ciao veronica sono contenta che ci stai seguendo e dicevo appunto questo tipo di spero che sia iniziata bene la giornata di martedì potete tranquillamente farlo da soli cioè non avete bisogno di acquistare il kit perché come vedete si tratta di pezzettini di lana di circa 5 cm appunto che voi potete realizzare tranquillamente da soli utilizzando magari degli scarti degli avanzi di lana quindi vi verrà fuori un tappeto assolutamente diciamo colorato con i colori appunto che sciogliete potete usare anche materiale che avete avanzato da altri lavori naturalmente per questo tipo di quadretto questa grossezza della tela ho bisogno di lana chiaramente o acrilico di questa dimensione quindi parliamo comunque di una dimensione per uncinetto o per chiaramente per uncinetto o per appunto per ferri da maglia naturalmente del 4 appunto del 5 come come grossezza eccola qui chiaramente se voi avete una tela come quelle che vi dicevo da giardinaggio che trovate a metraggio più dove il quadrato è molto più grande o più spesso potete usare naturalmente della lana più spessa è evidente che più sarà spessa la lana e più l'effetto riempimento all'interno del quadretto sarà sarà notevole quindi più riempirete il quadretto a disposizione quindi se volete una trama più fitta scegliete naturalmente della lana più spessa ripeto io adesso vi sto mostrando Valentina stavo facendo vedere il kit che trovate nei negozi Tiger non lo so se lo trovate ancora anzi se qualcuna conosce i negozi Tiger e ha avuto modo di andarci me lo scriva mi commenti non è stato acquistato diciamo recentemente ma a me serve in un certo senso per semplicemente per farvi un esempio perché innanzitutto l'attrezzetto lo trovate un po' ovunque ripeto verificate in questa parte metallica funzione va da su e va da giù e questo diciamo a reperirlo non avete assolutamente difficoltà perché veramente sono attrezzi che trovate soprattutto nelle catene dei negozi di cinesi e li trovate ovunque mentre la tela la trovate nei negozi appunto di giardinaggio di più o meno spessore per quanto riguarda e grandezza per quanto riguarda questa parte quadrata questo tipo di tele tra l'altro mi viene adesso in mente che in questo caso vedete nel kit ma che appunto trovate di facile reperibilità anche nei negozi di giardinaggio possono essere utilizzati anche per realizzare dei tappeti con i pompon cioè voi andate a prendere questo tipo di tela e poi a fare delle combinazioni delle difforme e chiaramente dimensioni che desiderate con dei pompon e andate semplicemente ad inserire i pompon all'interno dei quadrati con l'uso di un uncinetto andate quindi a riempire la vostra tela di pompon nella prossima diretta vi farò vedere questa tela qui da diciamo da giardinaggio della quale sto parlando perché ne abbiamo parecchia anche noi qui perché vogliamo proprio realizzare anche un tappeto con i pompon per quanto riguarda in particolare questo tipo di kit troviamo naturalmente il disegno già stampato quindi c'è la comodità di dover e si brava e tela da punto croce infatti si utilizza anche per realizzare il punto croce è proprio tela da punto croce come diciamo sembra infatti tela Ida Katia assomiglia moltissimo alla tela Ida tant'è vero che possiamo andare anche a realizzare come dici giustamente del punto croce su questo tipo di tela appunto non è non ha la consistenza appunto della tela Ida e questa è una cosa molto bella Katia perché permette di utilizzare questo tipo di tela per tante cose quindi classico punto croce basterà naturalmente andare ad inserire appunto l'ago nei riferimenti che sono quelli che utilizziamo classicamente per il punto croce tra l'altro questo tipo di kit dove abbiamo questo tipo di tela appunto che assomiglia come dice giustamente Katia e che permette alla tela Ida e che permette appunto di realizzare anche il classico punto croce lo troviamo anche nei kit proprio specifici cioè con il disegno appunto stampato sia diciamo come canvas quindi per il punto croce e anche per il mezzo punto non so Katia se conosce appunto ecco vedi per essere più precise da mezzo punto infatti leggo adesso il commento per il discorso del mezzo punto all'occorrenza possiamo usarlo anche per il punto croce in particolare non so se qualcuno appunto all'ascolto mi dà un feedback questo tipo di tele così prestampate oltre naturalmente a trovarle e a poterle acquistare chiaramente sul web le trovate su Amazon le trovate su AliExpress molte volte appunto già stampate quindi assolutamente di immediata esecuzione le trovate anche molte volte alla Lidl già diciamo come dire così già pronte diciamo all'utilizzo per mezzo punto o punto croce adesso vi faccio vedere però un utilizzo che si può fare di questa tela un pochino diverso cioè legato appunto a questo attrezzo non so se Katia lo conosci è un attrezzo anche questo di semplice riperibilità quindi non utilizziamo aghi come nel mezzo punto e come nel punto croce ma utilizziamo questo tipo di attrezzo e usiamo della lana che dicevo in questo caso io ho il kit per cui lo trovate già così come potete vedere ci sono tanti colori però volendo naturalmente è per questo che ve ne parlo perché non è assolutamente obbligatorio ad avere questo kit per poter lavorare con questa tecnica voi potete tranquillamente utilizzare gli scarti di lana e andarvi a fare questi pezzettini di lana di circa appunto di un po' di centimetri chiaramente ripeto la grandezza della lana e comunque vi darà anche il riempimento poi finale del quadratone appunto e poi andate naturalmente a seguire in questo caso perché c'è già il disegno stampato seguire i colori e a riempire il vostro appunto canvas in questo modo dicevo Kate questo tipo di tela la troviamo tranquillamente anche nei negozi di giardinaggio e possiamo quindi andare a riempire questo tipo di tela con la tecnica appunto che vi mostro oggi per poter realizzare delle borse adesso andiamo nell'estate quindi borse diciamo di tipo estivo dove appunto la tela viene riempita con la lana ma come facciamo chiaramente andare a riempire il quadrato allora innanzitutto dobbiamo posizionare il nostro appunto ago in questo modo cioè con la parte metallica tutta completamente giù allora adesso spero di riuscirvi a far vedere bene il lavoro con un pochino di zoom dovete quindi seguitemi anche nella prossima diretta perché riprenderò il lavoro zoomando meglio allora voi dovete vi faccio vedere con il colore bianco direi perché forse è quello che si vede no forse no bianco no faccio vedere con l'azzurro forse che è quello che si vede un pochino meglio andate a inserire all'interno del vostro punto quadrato che dovete iniziare a lavorare ve lo faccio vedere sul bianco perché sicuramente vedete meglio andate ad inserire tutto quanto l'ago e la parte diciamo metallica e rimanete appunto così chiaramente questa parte è tutta giù naturalmente è completamente giù adesso andiamo a passare il nostro appunto pezzettino di filo che abbiamo arrotolato in questo modo lo facciamo gli facciamo fare un giro appunto sul lago adesso vi faccio vedere così ma poi appunto nella prossima diretta voglio zoomare meglio così vi faccio vedere meglio il tutto aspettate che qui ci incartiamo il bello della diretta seguitemi perché vedo di zoomare meglio così vi faccio vedere il procedimento ciao ciao